Le sue parole erano tesissime da giorni, ma quando il ministro varca le porte di Montecitorio, l'aula è semideserta. Il processo politico annunzia De Girolamo, ministro dell'agricoltura coinvolta anche se non indagata nell'inchiesta sugli appalti alla sanità beneventana, va in scena senza la giuria. Assenti grandi accusatori, 5 Stelle, che contro di lei hanno presentato una mozione di sfiducia. Solo 11 deputati tra i banchi di Montecitorio, un blitz negli ospedali del Lazio, la motivazione ufficiale. Più folta, ma tutt'altro che completa, la truppa del PD. Dai renziani del resto era partita l'interpellanza che l'ha portata in aula e dal segretario le prime parole dure che hanno fatto vacillare la sua poltrona. Nei banchi democratici si dè anche Francesco Boccia, marito della De Girolamo, cupissimo. Anche la protesta è in tono minore. Un deputato di Selle solleva un cartello. Agricoltura? No, mi occupo di Bari e di Asle. Accanto a lui però il deserto. Provano a darle forze, i deputati del nuovo centrodestra saranno gli unici ad applaudire e a stringerle la mano al termine dell'intervento. Accanto a lei sui banchi del governo i ministri amici, quagliariello e il vicepremiere Alfano, che più tardi andrà via, sostituito da Maurizio Lupi. Assente invece il premier Letta, una distanza non solo fisica. Il ministro pronuncia la sua difesa. Mai, mai e poi mai ho abusato del mio ruolo di deputato e mai, mai e poi mai ho violato la legge e la Costituzione sulla quale ho giurato fedeltà. De Girolamo nega che esista un direttorio politico per gestire le nomine, non solo nelle Asle. Parla di complotto. Chissà parli l'invito, ma io ho fiducia nella magistratura. Pentita per alcune espressioni colorite, rivendica di aver lavorato per i cittadini. Coscienza in pace, ma cuore in subuglio per una vicenda caffiana. Un linciaggio mediatico senza precedenti. Parole che non chiudono il caso. I grillini non fanno marcia indietro sulla mozione di sfiducia e invitano il PD a convergere. Non depongono le armi, democratici. Sia il ministro a valutare un passo indietro, dice la Renziana Bonafè, rimangono zone d'ombra. Scelta civica, dopo aver invocato ieri le dimissioni, mette il dossier nelle mani di Letta, che oggi ha preferito non esserci in metro, forse, per misurare le distanze crescenti tra il premio e il suo ministro. Sul caso, insomma, non è stata ancora scritta la parola fine.